Immaginate di essere in un mondo che deve cambiare, ma siete gli unici che se ne rendono conto. Ciao, io sono Davide Nicolicchia e prima di lasciarvi al podcast vorrei parlarvi di un progetto a cui tengo molto. Si tratta di Luna, il prossimo cortometraggio scritto diretto da Aurora Ovan per il quale curerò la fotografia. Sarà un corto sci-fi e codistopico, con attori internazionali e sarà una coproduzione tra Italia, America e Serbia. Essendo un progetto molto ambizioso abbiamo deciso di lanciare una campagna crowdfunding su Indiegogo. Se siete curiosi di scoprire il mondo di Luna e supportarlo, vi lascio il link in descrizione. Dietro ogni film, spot o serie tv c'è un'arte nascosta, ma ben visibile a tutti, la cinematografia. E Backlight vuole far luce su di essa. Io sono Davide Nicolicchia, direttore della fotografia e operatore. E in questo podcast ascolterai le voci e le storie di chi la crea. Benvenuti su Backlight. Ciao a tutti e benvenuti su Backlight. Io sono Davide Nicolicchia e oggi con noi andiamo ad analizzare un altro ruolo del mondo del cinema che è stato chiesto direttamente da voi attraverso i canali social di Backlight. Andremo a scoprire cos'è il ruolo del First AC o primo assistente camera. Abbiamo con noi Davide Pazian, che ti ringrazio intanto per essere qua. Grazie a te, grazie a te per l'occasione. Bene, sarà, penso, interessante per molti riuscire a parlare un po' di questo ruolo che magari è sconosciuto a chi magari non è a vezzo, invece magari per chi è più dentro il mondo almeno l'ha sentito dire, però andremo un po' a snocciolare quali sono i ruoli e le competenze che deve avere un primo assistente camera. Però prima di incominciare a parlare del lato tecnico del ruolo, come piace parlare a me un po' su questo podcast vorrei capire la tua storia, il tuo percorso, da dove è nata la tua passione per le immagini, per il video e come è nato poi tutto il processo che ti ha portato a diventare un assistente camera. Ok, dunque, io ho iniziato gli studi con un percorso che non c'entrava moltissimo con il mondo del cinema sono diplomato elettronica telecomunicazioni dopo ho deciso di intraprendere questa parte di lavoro cercando di capirlo un po' meglio quindi ho detto, guarda, proviamo a studiare ancora un po' iscriviamoci all'università e proviamo a capire magari un pochettino meglio teoricamente che cos'è questo lavoro allora ho deciso di scrivermi al Dams a Torino ho iniziato, anzi, avrei voluto iniziare con il Multidams solo che credo che adesso non ci sia neanche più Sì, infatti, cosa era il Multidams? Comunque, il Multidams era un ibrido, diciamo sono sempre stato abbastanza nerd con il computer e diciamo che il Multidams era un po' l'unione tra la parte più cinematografica, diciamo, è la parte più di computer quindi oltre alla parte di classica storia del cinema nordamericano del cinema bla 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 c'era anche una parte molto più incentrata sull'effettistica, sugli effetti sul montaggio quindi anche proprio una parte, diciamo pratica, più inerente anche alla parte cinema solo che ovviamente non sono riuscito a entrare perché era numero chiuso mi sembra ci fossero 120 posti io sono arrivato tipo 130 e qualcosa quindi appena fuori appena fuori quindi ho detto, vabbè mi iscrivo al Dams normale do gli esami che sono uguali all'altro percorso di studio e poi faccio il passaggio interfacoltà e passo al Multidams il secondo anno riprovo il test di nuovo fuori dalla classifica e quindi ho detto, vabbè niente, finisco col Dams anche perché ormai era arrivato al terzo anno quindi la laurea era lì l'altro al terzo anno quindi ho detto, vabbè, finiamolo lì non contento, finisco il terzo anno e dico, vabbè siccome questa laura mi sembra un pochettino non voglio dire inutile ma non proprio nelle mie corde per quello che avrei voluto fare io cioè proprio una parte più pratica che teoriche cominciavano la semiologia del cinema le varie pippe che io ho sempre odiato ma che ovviamente bisogna fare ho detto, vabbè proviamo un'altra università proviamo il Damsi Bologna il rinomatissimo Damsi Bologna faccio la specialistica a Bologna e diciamo che qualche esame effettivamente era un pochettino più pratico quindi c'era qualche laboratorio qualche laboratorio di montaggio qualche parte più pratica allora diciamo che è venuto un po' in contra a quello che volevi fare tu insomma, era più nelle tue corde diciamo che è servito al 20% diciamo non è molte persone mi chiedono ah ma serve no secondo me se vuoi fare questo lavoro non serve non serve o meglio serve per tua cultura personale che non è mai una cosa sbagliata non è mai una cosa che è sempre una cosa che comunque aiuta e rende allenata la mente però diciamo che adesso quando ho dato io la tesi era il 2008 quindi insomma abbastanza anni fa internet ovviamente c'era ma non era ancora così sviluppata quindi adesso questo è un mondo mi sembra veramente vecchio ok adesso se qualcuno vuole informarsi comunque internet ti aiuta un sacco certo quindi ci sono un sacco di informazioni che si possono carpire su 100 miliardi di siti che che ovviamente ti aiutano a effettivamente capire indirizzarti effettivamente su quello che vuoi fare certo anche perché io per esempio sono partito così studi non ne ho fatti a livello proprio accademici sono partito da youtube e tutti i vari forum eccetera che c'erano assolutamente e diciamo che quelli della mia generazione più o meno sono metà e metà metà hanno studiato alle università che possono essere dance o stm o accademie altri invece sono nati così su internet esatto sicuramente se vuoi fare questo lavoro se fai un set un po' grosso ben fatto sì sì impari più che tre anni bravissimo bravissimo che tre anni di studi entri nel mondo del lavoro cinque anni prima di me nel senso paragonando a un ragazzo delle mie stesse età che non avesse fatto università ma si fosse diretto subito il mondo del lavoro adesso avrebbe cinque bar sei anni più di esperienza di me che comunque in questo mondo fanno certo quindi ti sei vai finisci no dicevo soprattutto con l'evoluzione che ha questo mondo di tecnologia di nuove sistemi nuovi formati nuove luci nuove tecnologie quindi esatto ed essere sicuramente entrare prima come tutte le cose ti aiuta diresti di esserti pentito di aver fatto questo percorso cioè col senno di poi avresti incominciato prima magari non avresti fatto la specialistica magari finendo i tre anni già che ormai ho conosciuto sicuramente molte persone che mi hanno forse un po' più aiutato diciamo che questa questa università mi ha creato un po' più di connessioni che mi hanno permesso poi uscito di cominciare a muovere i primi passi che è sempre un delirio cioè uscire dall'università e trovarsi ok io sono laureato con 110 elode in cinema produzione televisione produzione multimediale che cazzo faccio adesso quindi dove vado che faccio ho un meraviglioso film di carta ma quindi quello che secondo me in questo lavoro è sicuramente più utile è avere conoscenze perché saprei che questo lavoro credo che nessuno sappia che io sia laureato nessuno e nessuno chiede comunque se lo sei o meno nessuno chiede e nessuno mi fa lavorare perché sono laureato o magari fa lavorare me perché sono laureato rispetto a qualcun altro che non lo è certo cioè non sono un chirurgo non sono un ingegnere nucleare non sono dove magari la laurea diciamo che serve insomma diciamo che quel caso anche serve che è un buon inizio qui non gliene frega niente a nessuno che tu sia laureato in giurisprudenza che abbia fatto l'arte circense della giocoleria se sai fare il lavoro basta l'importante è quello se sei bravo se non sei un rompipalle infinito lavori ok e come sei passato poi dall'università al mondo dei set questo è quello che una mia compagna che ha fatto un tirocinio con i manetti bros che sono due fratelli una storia molto lunga complicata comunque un ragazzo aveva creato delle discussioni strane su un forum in cui c'erano anche i manetti bros per cui erano entrati un po' in contatto questo ragazzo era venuto a fare un film a Torino suo primo film a Torino e questa ragazza che era con me all'università di Bologna e che era entrata in produzione in questo film a Torino mi ha detto ah ma tu sei di Torino ti andrebbe di fare questo film mi ha detto urca certo perché no io sono entrato dal reparto elettricismo ok da qui il mio nome fase il mio soprano mi chiamano tutti così mi va bene su quel set c'erano tanti Davide allora tu tu sarai fase ok allora da lì in poi è un lato fase la presenza la presenza di Davide da omonimi posso dirti che effettivamente è ovunque su set c'è sempre almeno due Davide ci sono presenti quindi e lì combinazione avevamo veramente tipo tre o quattro di quei due nello stesso reparto per cui era abbastanza delirio Davide sì dimmi 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 per radio era un casino quindi dal terzo giorno tu sarai fase e da lì sei rimasto fase quindi ho iniziato proprio da un altro percorso ho iniziato non da macchina da presa ma da elettricismo e ho cominciato con scaricare quintali di furgoni perché una volta c'erano i 4.000 c'erano i 5.000 c'erano i 18.000 c'erano da tirare 200 metri di 63 di 128 di 32 tartarughe cose bla 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 e poi diciamo che sempre lì conoscendo persone conoscendo uno fai un set conosci un altro conosci uno conosci un altro ho cominciato un pochettino più a fare l'operatore di di live però quindi di ho cominciato a lavorare un po' nei concerti a lavorare un pochettino nello sport ho fatto un po' di serie di basket a Torino diciamo che ho cominciato a fare questa cosa parallela di sia la parte elettricismo sia le cose un po' più piccole diciamo come operatore blag però ho assolutamente mai fatto l'operatore nel cinema se non cose minuscole che camera facevi nel calcio no ho fatto tanto basket ho fatto solo basket tre anni facevo la camera sotto il canestro ok che era a spalla era a spalla quella era a spalla ho praticamente fatto tanta spalla ho fatto poi un po' di concerti un po' in giro per l'Italia un po' in Sardegna come spalla e e poi ho deciso ma senti ma a questo punto proviamo anche un po' a cambiare strada è un po' difficile in questo mondo se sei inquadrato in un modo riuscire a cambiare strada non è ben visto non è diciamo non è non è stata una cosa semplice è stato un po' ricominciare ho avuto tanti ricominci in questo in questo mondo sono stato in Australia poi un anno quindi un anno no otto mesi nove mesi quindi tornando ho dovuto ricominciare un po' di nuovo tutto poi ho avuto un brutto incidente nel 2017 per cui sono dovuto rimanere fermo quasi un anno anche lì quindi ho dovuto ricominciare diciamo che ci sono stati parecchi alti e bassi sì però dai adesso va bene non ci lamentiamo non facciamo i soliti italiani che ci lamentano per tutti esatto e quindi il passaggio cioè a passare poi il lato camera diciamo reparto camera ho fatto se dovessi dicere abbastanza poco l'aiuto non ho fatto il video assist ho fatto sempre ho fatto il video assist ma su robe veramente piccole che non non è considerato video assist insomma è un assistente generico sul reparto camera di tutto e che fa tutto però solo il video assist non l'ho mai fatto ho fatto un po' l'aiuto e poi sono passato a fare l'assistente diciamo un po' buttandomi come si deve fare in questi in questi casi un po' cercando sempre partendo le cose un pochettino più piccole partendo le cose un pochettino più facili per poi sì una decina di anni fa praticamente fare solo più l'assistente un po' meno nove anni fa fare solo più l'assistente e via adesso è solo più quello ok quindi diciamo che adesso fai 100% assistente o comunque fai anche qualche lavoro secondario cioè fai ancora un po' no capita quei lavori un pochettino più piccoli dove magari ti dicono ah magari poi le schede le scarichi tu ok eh sì io gli dico guarda io ho un bellissimo software inserisco la scheda me ne vado e quello che succede succede non sarò sicuramente lì anche perché sono due ruoli che ovviamente non possono coincidere cioè se sto al computer non ti faccio i fuochi quindi scegli tu scegli tu poi che sia davanti al computer ci sto però avrei delle meravigliose riprese ma sfocate quindi è così però diciamo che al 90% faccio solo l'assistente ok adesso arriviamo un po' al fulcro al fulcro della puntata se vuoi raccontare un po' che ruolo è quello dell'assistente come si dividono gli assistenti perché ci sono vari vari ruoli poi sotto gli assistenti camera quindi un po' i compiti cos'è cosa fa un assistente camera nel cinema e magari anche le differenze magari nel cinema e nelle produzioni magari più commercial o comunque più piccole insomma come si dividono i lavori diciamo che sì l'assistente è il caporeparto del reparto macchina da presa quindi sul set la macchina da presa è roba sua qualunque cosa succeda se funziona se non funziona se si spacca se cade se si rompe se qualcuno vi tira un bicchiere da qua sopra sono cazzi dell'assistente quindi è responsabile sul set del funzionamento della macchina da presa tutto parte dai provini quando che li fanno fare non è sempre detto che i provini te li permettono certo e quindi i provini sono diciamo la costruzione come se giocassi con i lego della macchina da presa con varie altre varie altre cose che possono servire per per lo shooting per la ripresa quindi i fuochi i trasmettitori video i focus bug o i classici diciamo le antenne che possono essere i vari aiuti che possono dare a un assistente i vari modi per cui può essere montata la macchina a presa quindi a spalla a mano ronin a stedi e quindi riuscire a capire tutte le varie modalità e soprattutto che cosa ti serve per poter passare da una modalità all'altra nel più breve tempo possibile e senza ovviamente stravolgere la macchina tutte le volte che ti viene chiesto di una spalla una stedi o un ronin o quello che è una volta che si è terminata questa fase quindi la costruzione proprio fisicamente ci si mette lì con i cavetti con le vitine con i pezzetti pezzettini a montare la macchina nel miglior modo possibile in base a quello che è l'operatore che è strano perché cioè noi siamo i capri dei parti ma comunque dobbiamo rendere conto all'operatore che è quello che effettivamente poi userà la macchina da presa quindi se lui mi dice ah no io voglio anche la presa più piccola possibile la voglio il più leggera possibile la voglio pesante sulla schiena perché è tutta spalla la voglio ognuno ovviamente come gli va più comodo giustamente per lavorare gli va più comodo e noi in quel caso siamo degli esecutori quindi cerchiamo di soddisfare il più possibile le richieste dell'operatore o del DOP nel caso che fosse DOP operatore dopo di che sul set l'assistente operatore oltre a montare comunque a tenere sempre in ordine la macchina è quello che fa i fuochi cioè regola la messa a fuoco sulle ottiche e quindi decide che cosa metterà a fuoco ovviamente decide lui per via del per via di quello che gli viene detto ovviamente non è che si prende la libertà ovviamente ci sono le decisioni per cui è palese che se c'è un campo contro campo e io una spalla di uno ovviamente metterò a fuoco il volto il soggetto ovviamente sono cose che sono ovvie ma che magari all'inizio qualcuno che inizia ovviamente una una strada normale prevede il passaggio da un video assist si dà un aiuto per cui magari cominci già a capire come funziona questo mondo cominci già a capire che cosa sarà effettivamente poi il lavoro dell'assistente se effettivamente poi un aiuto vorrà passare a fare l'assistente non è neanche detto degli aiuti che sono bravissimi aiuti e che non hanno nessuna intenzione di passare a fare l'assistente niente sul set fondamentalmente la squadra è composta da assistente prima assistente se c'è un'altra macchina quindi la macchina B la macchina C la macchina D e bla 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 c'è un altro assistente un altro primo assistente della macchina B un altro primo assistente della macchina C e così via sotto di di lui di loro ovviamente il primo assistente della macchina A è un po' il capo di tutte le macchine da quese ovviamente poi ogni macchina è gestita dalla propria squadretta nel senso primo assistente aiuto ma fa sempre capo al primo assistente della prima macchina certo sotto l'assistente c'è ovviamente l'aiuto o gli aiuti se ci sono più macchine o molto spesso capita che ci siano due macchine e un aiuto nelle produzioni un po' meno ricche quindi l'aiuto deve correre tra macchina A e macchina B tra i due primi assistenti per le varie richieste sotto l'aiuto c'è il video assist il DIT il DIT forse è più dell'aiuto ma diciamo che è una parte diciamo che si dividono non è che sono proprio lineari cioè non sono a cascata esatto esatto non è fisicamente sul set diciamo che ha la sua parte di lavoro che alle volte può capitare che diano una mano ma fondamentalmente il DIT sta a un monitor e comunque non è non dico fisicamente sul set perché è fisicamente sul set però non è nella catena della macchina da presa che effettivamente gira certo le immagini ovviamente le vedi ovviamente ci lavora certo lavora solitamente è a fianco al DOP per cui loro due interagiscono molto e quindi diciamo che è più dalla parte del del DOP diciamo sì diciamo che sono molto ramificate come strade però sotto l'aiuto ci può essere un camera training quando le produzioni sono un pochettino più grosse e quindi ti ti permettono di avere un camera training che solitamente è una persona che che inizia che che fa i primi passi in questo mondo quindi diciamo che è un po' sotto le ali dell'aiuto quindi lo comincia piano piano a diciamo a insegnare a chi fa cosa chi fa come diciamo che comincia a delegare anche un po' l'aiuto al camera training se questo camera training effettivamente deve essere la cava qualche lavoro che magari può essere mettere in carica le batterie spostare magari le cose non troppo preziosi da una parte all'altra insomma gestire un po' i cavi gestire un po' magari i cavi del DIT quando si spostano c'è anche la possibilità di avere un cable che è dalla parte del video assist diciamo che è un è un aiuto al video assist quindi sono un po' dei jolly che ovviamente danno una mano nelle situazioni di delirio collettivo come spesso capita soprattutto negli spostamenti soprattutto nei vari spostamenti in cui bisogna essere veloci bisogna essere veloci precisi possibilmente senza rompere niente e quindi insomma più braccia ci sono che fisicamente fanno qualcosa meglio è prima ci si muove tutti meglio è prima ci si muove tutti quindi diciamo che il ruolo principale comunque è quello di gestire la camera e fare i fuochi diciamo tenere i fuochi diciamo che alla parte di gestione anche proprio del reparto cioè chi fa cosa chi va dove diciamo che si fondamentalmente poi i primi giorni è sempre più un casino come al solito per cui bisogna un po' rodarsi tutti bisogna un po' insomma capirsi entrare nell'ottica del lavoro però diciamo che una volta partito si l'aiuto ha tanti compiti poi ci sono diversi tipi di assistenti ci sono gli assistenti che arrivano con i mocassini la camicia loro girano veramente proprio solo la rotella e premono il tasto io dico sempre noi siamo dei giratassi dei primitassi dei girarotelle in verità non è così semplice diciamo che si vedono si vedono alcune volte nei backstage di Hollywood dei film grossi che ci sono proprio quelli che sono un po' come vedi anche i direttori della fotografia vestiti con la camicetta il cappello la giacchetta eccetera non solo a UL non solo a UL ma anche qui ci sono anche gli assistenti focus puller insomma gli assistenti camera che sono vestiti come per andare in giro normalmente certo no no ma capita ma allora in America c'è anche la distinzione tra focus puller e assistente c'è veramente la differenza tra chi fa solo esclusivamente i fuochi per cui difficilmente tocca la camera ok e molto spesso l'assistente che tocca la camera cioè prende fa monta disfa disfa o l'aiuto e il focus puller che fa veramente solo fuochi è molto rara come cosa però però c'è certo c'è io non sono così cioè io sono uno che ti piace mettere mano certo essere attivo lascia mettere mano perché mi è sempre piaciuto quando posso aiuto non sono una persona che si siede va a pirarsi un caffè quando magari c'è l'aiuto che si sta ammazzando a portare un Megliner carico di 50 kg di roba con 25 mila robe sopra due teste due cavalli due robe certo no cioè non sono una persona che sta lì a guardare siccome a me è successo che molte volte mi hanno un po' abbandonata a me stesso se posso lo evito cioè se posso aiutare e non mi costa troppa fatica lo faccio assolutamente è un po' diciamo l'indole quella dell'assistente anche perché diciamo che ovviamente tu sei sotto altre persone sei sotto l'operatore sei sotto il direttore della fotografia quindi tu sei comunque stai lavorando per qualcuno sopra di te ah certo no 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 sicuramente siamo tutti nella stessa squadra per per un obiettivo comune quindi siamo tutti sulla stessa barca quindi meglio facciamo le cose prima facciamo le cose e più siamo contenti tutti a meno io la penso così se dobbiamo perdere mezz'ora perché il mio aiuto è impantanato con un carrello in mezzo al fango e dobbiamo chiudere il camion mezz'ora dopo sì sì non è che sei lì ad aspettare certo no non la vedo una cosa corretta ripeto non è una cosa da me non ce la faccio poi capita magari che se sei una giornata particolarmente incasinata mi aiuto faccia un po' più di roba ma tendenzialmente no e cosa questa è una curiosità c'è qualcosa del tuo ruolo che proprio ti piace meno diciamo no non ti piace però ti pesa un po' di più fare e invece magari quella che ti piace di più ma che mi piace meno diciamo che come lavoro a me piace io non ho nessuna intenzione per adesso di fare l'operatorio fare il DOP non ne frega niente mi piace il mio ruolo mi piace assolutamente la responsabilità che mi che mi dà il mio ruolo e la cosa che mi piace meno forse sono i T1.4 i T1.2 che sono un po' complicate dici sì no vabbè adesso si scherza ormai c'è questa moda di girare in wide open che ormai già da un po' forse sta anche passando dai forse sì un po' sta passando dai ogni tanto diciamo che che ritorno anche alle ottiche vintage un po' aiuta a tenere un po' più chiuso perché se no quelle già sono morbide di loro sì assolutamente aiuta la cosa che mi piace beh io sono abbastanza uno smanettone quindi mi piace fare costruire mi piace trovare soluzioni a problemi mi sono comprato una stampante 3D per crearmi degli accrocchi per poter fare le cose meglio per ho la fortuna di avere un papà che ha un'officina meccanica con torni frese quindi se devi farti qualche pezzo te lo fai insomma te lo fai fare in maniera veloce rapida mi solleghi ah guarda l'ho spanato una vite riesci a togliermela sì certo ah guarda c'è sta cannetta che è troppo lunga riesci a sì certo ah c'è sto pezzo sì certo potrebbe essere un business secondario quello sì no ma effettivamente qualche cosa sì però sono diciamo lavoretti che che faccio volentieri per più che tutto dare una mano a tutto al gruppo ai colleghi eccetera cioè se io avessi avuto la fortuna che ho io adesso con mio padre cioè cavoli è una cosa veramente molto molto figa insomma è una roba che non è molto comune avere la possibilità di non dico avere tutto quello che vuoi perché insomma sembra un po' però di avere la possibilità di creare quello che effettivamente ti serve come ti serve infatti diciamo che il tornio non è che tutti ce l'hanno a casa magari qualche pezzo base riescono a farselo però il tornio non è proprio una cosa comune che trovi di pezzi pezzettini adesso le macchine stanno diventando sempre più piccole ci sono sempre più cose da mettergli su quindi insomma bisogna miniaturizzare le cose bisogna ingegnarsi su dove far passare le cose quindi è comodo è comodo e la cosa la cosa più interessante è più utile che ti sei creato tu se ti viene in mente così al volo va bene mi sono creato un supporto per il mio monitor per riuscire ad attaccare un Teradec direttamente al mio monitor hanno creato una fake battery un NPF che si attacca dietro al monitor con una specie di staff per riuscire ad attaccarmi direttamente un Teradec o trasmettitore che sia senza impazzire con bracci bracci eccetera cose che poi si mollano è sempre un disastro quindi bello solidale ma poi ne avrò creati 200 milioni non lo so c'è il mio bag che mi prendono tutti in giro perché è veramente una roba imbarazzante peserà credo 50 kg ma seriamente è una roba folle infatti la schiena ne risente ma che palle i trainee saranno contenti di andarti a recuperare le cose dalla tua bag magari il 99% delle volte non serve niente però quando serve certo quando serve magari ti salva la vita ti salva la giornata ti salva il setup di quel momento certo poi vabbè si fa di necessità per tu come si è sempre detto insomma l'arte dell'accrocchio in questo mondo è fondamentale fondamentale e è la prima regola di questo mondo e hai accennato la questione del salto di ruolo diciamo da operatore o direttore della fotografia e ti chiedo cosa spinge un assistente camera a rimanere a rimanere fermo in quel ruolo e non aver l'ambizione diciamo di andare avanti anche perché insomma ormai cioè nel senso è arrivato a un certo penso livello della tua carriera che non vecchio no non vecchio però ne hai fatta di esperienza nei fatti di salti quindi l'età e l'esperienza ce l'avresti per volendo fare il salto cos'è che ti spinge a rimanere nel tuo ruolo mi diverto mi diverto mi diverto veramente tanto a fare questo lavoro quindi non lo so poi ripeto mai dire mai magari fra 5-6 anni mi rompo le palle e passo in camera non è una cosa così scontata cioè tu puoi volerlo fare ma poi devi trovare qualcuno che ti che ti dia fiducia e che comunque insomma è un altro passaggio abbastanza cazzuto è passare dall'assistente all'operatore perché comunque sì no diciamo che la domanda era più proprio a livello personale poi al di là delle possibilità effettive o meno che ci saranno o meno ma io boh guarda come ti dico a me il mio lavoro mi piace mi piace quello che faccio non non sento così la necessità di di voler a tutti i costi fare la solita scalata al successo poi ripeto mai dire mai magari mi rompo le palle cerco di salire a macchina imprese però adesso non ho assolutamente nessuna boh magari poi non sono neanche capace ripeto sono dieci anni che non lo faccio quindi boh magari dovresti riprendere un attimo la mano anche su quello sì diciamo che come ruolo è sicuramente uno dei ruoli più ambiti perché il rapporto sbattimento soldi certo è molto positivo è assolutamente uno dei ruoli più ambiti però boh guarda forse anche come responsabilità diciamo che l'operatore ha delle responsabilità però se metti le responsabilità di chi c'è prima e di chi c'è dopo cioè del direttore della fotografia e dell'assistente diciamo che le possibilità di sbagliare dell'assistente e del direttore della fotografia sono un po' più alte in confronto magari all'operatore poi dipende ovviamente dalla ripresa ovvio che se mi dici facciamo 20 minuti steady ti dico ok anche no però insomma magari su un dialogo o la possibilità che tu sbagli il fuoco o l'illuminazione non sia coerente per varie vicissitudini è molto più bassa certo però la differenza tra un operatore mediocre e un operatore bravo lo vedi subito sì sì no ma lo sicuro lo vedi subito ma anche da una macchina su cavalletto cioè non per forza da una spalla non da una una steady da un rowing che sono totalmente altri mondi però anche l'operatore ha i suoi bei problemi nel senso che l'operatore ha una serie di 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 problemi da dover risolvere che non sono pochi nel senso che anche lì la vedi a differenza da un operatore che non gli frega un cazzo per cui muove veramente solo la macchina da presa e non gli frega nient'altro di muovere la macchina presa da chi effettivamente propone decide le lenti capisce bene cosa vuole il regista o il DOP e quindi interpreta in maniera corretta traduce quello che vuole il DOP o il regista e quindi non è anche così facile fare l'operatore è un'altra è un'altra bella gatta da perare certo certo molto sicuro e quindi tu per il momento stai bene lì e non hai intenzione di muovere io sono assolutamente felice nel girare a rotelle e premere tasti senza dire tutti i pesi spostati i cavi tirati eccetera diciamo solo visto da fuori questo mondo sembra divertente sembra sembra un paese dei balocchi poi una volta che ti fai undici ore sotto il sole a a uno e due a correre dietro la gente con una stedi magari non è così bello ci sono posti di lavoro migliori esatto sì poi ripeto ovvio se piace comunque non uccidiamo nessuno se qualcuno sbaglia cioè se sbagliamo non muore nessuno quindi diciamo che facciamo un lavoro che comunque è un lavoro molto figo certo è un lavoro è un lavoro che per quanto possa essere bello visto esternamente è comunque faticoso è un lavoro decisamente usurante però è figo su quello non ci piove non ci piove secondo te che caratteristiche deve avere un assistente camera allora secondo me un assistente camera deve avere principalmente la caratteristica di di essere di essere liquido cioè di doversi di potersi adattare alle 200 milioni di 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 possibilità e di di problemi e di 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 come si può dire di di neanche difficoltà di ambienti di lavoro di di modi di di lavorare di capacità di deve essere abbastanza duttile deve poter cambiare modalità di lavoro e soprattutto cambiarlo il più in fretta possibile in base alla alla situazione in cui si trova deve essere una persona che ovviamente sappia relazionarsi con più persone perché comunque si ha a che fare con più persone sia di grado più alto di lui che di grado più basso quindi sapere anche dico impartire ordini ma ovviamente in senso positivo in senso positivo cioè riuscire a gestire una squadra che comunque deve funzionare e non soprattutto non si debba bloccare mai perché se si blocca che ne so ah non ci sono più batterie è un problema cioè fermarsi cioè fermarsi perché il tuo aiuto si è dimenticato di mettere in carica le batterie ovviamente non succederà mai perché certo ne hai sicuramente abbastanza per riuscire ad andare avanti anche se ti dimentichi di metterle in carica durante il set sì ripeto sempre nell'ipotesi per cui un aiuto non sappia fare il suo lavoro e non ti mette in carica le batterie la macchina si spegne perché le batterie si scaricano ci sono più batterie è un problema certo o se il data manager ah ecco non abbiamo nominato il data manager tra i vari ruoli del reparto macchina se il data manager finisce le schede perché non ha scaricato in tempo ha solo due schede si è imballato nello scaricare le schede e smettiamo di girare perché non ci sono più schede è un disastro tutto questo durante i provini ovviamente ci si interfaccia tra tutti quindi con che macchina giriamo cosa giriamo quattro schede ti bastano cinque sei dieci cinquanta avremo delle giornate in cui potremmo non caricare mai le batterie perché siamo in mezzo a un bosco non abbiamo gruppo elettrogeno non abbiamo ebluetti non abbiamo niente per caricare le batterie ci servono trenta batterie dobbiamo prendere trenta batterie certo quindi è tutta la la l'iter del diciamo dei provini o del riuscire a capire le situazioni prevedere le situazioni un'altra cosa importante che deve fare l'assistente prevedere prevedere quello che potrebbe succedere e quindi anticipare il problema sappiamo che dopo domani siamo in mezzo al deserto ok parli con la produzione o l'aiuto parli con le produzioni domani siamo in mezzo al deserto abbiamo tre macchine che girano non potremo mai caricare le batterie perché non ci saranno gruppi ci servono altre dieci quindici 20 batterie e quindi riuscire ad anticipare il problema di dopo domani per far trovare le batterie recuperarle eccetera non lo so dobbiamo fare un camera car di 12 ore di fila e non possiamo mai scaricare le schede ci serviranno più schede dico cose a caso per dar l'idea per dar l'idea dei problemi stupidi che possono succedere su un seto dobbiamo passare a steady perché è spuntata per forza una steady ok che cosa ci servirà per andare a steady ed essere leggeri ok questo base plate non ci servirà più quindi ce ne servirà un altro le canette le mettiamo lì le mettiamo di là quindi ripeto cercare di prevedere un po' i problemi e cercare di anticipare le necessità le soluzioni anche girando nel senso sapere che quell'attore non è un re nel prendere i segni e sapere che alla seconda prova vedi che ti fa due piedi più avanti due piedi più indietro si sposta non si ferma lì capire che effettivamente prevedere che questo attore insomma sarà un po' ballerino quindi di non dire ah ciccio fermati lì lui non si fermerà mai lì tu ti sei preso un bel segno sul tuo marker che ti sei fatto lui si ferma tre piedi prima perché ha la voglia di o passa di là e passa di qui quindi essere un pochettino anche aperto però è la base ovviamente non potrai mai dire ah no io mi fermo sul segno è l'attore che deve arrivare lì no ovviamente siamo noi che ci dobbiamo adattare a quello che che poi viene messo in scena certo ovviamente ovviamente gli attori sono sempre la parte più alta della piramide quindi è ovvio che si cerca di di fare il possibile perché perché la ripresa venga venga bene nonostante i mille problemi che un attore può fare i mille le mille cose che ovviamente non sono state provate non sono state preventivate e quello sta un po' nell'abilità del dell'assistente nell'essere un po' schillato nel riuscire a capire quali possono essere i problemi anche soli e se dovessi dare dei consigli a chi vuole diciamo iniziare come focus puller quindi il fuoco o in generale anche chi non vuole iniziare ma chi vuole migliorare con con la messa a fuoco manuale col seguire il fuoco cosa cosa ti sentiresti di dire allora giocare al gioco di quanto c'è tra qui e lì quanto c'è tra qua e là e quindi so che da qua a là ci sono sette piedi e due pollici o giocare un po' a quello riuscire a capire le distanze fermo restando che le ottiche siano collimate che la macchina e le ottiche siano collimate bla 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 diciamo non non affidarsi totalmente al monitor parlo io che sono un fan sfegatato del mio monitor e se me lo tolgono che monitor usi? uno small hd 702 touch ok se non il mio monitor è un disastro oramai mi sono abituato ai miei 200.000 setup quindi ovvio che ci si riabitua ovviamente a tutto però ed è anche effettivamente molto difficile adesso girare a uno e due senza un monitor nel senso cavoli quando è la profondità di campo di un centimetro e mezzo e stai facendo un primo piano così con un 85 e non hai neanche magari tutto l'iride a fuoco insomma non avere un monitor è abbastanza complicato adesso diciamo che finché ci sono diaframmi umani ci si può ancora provare dopo e quindi tu comunque il monitor cioè nel senso lo utilizzi però lavori tanto anche visivamente cioè sullo spazio quando posso cerco sempre di vedere la macchina da presa quando posso voglio vedere la macchina da presa anche perché per quel poco di latenza che c'è oramai tra i fuochi tra i trasmettitori video tra che io vedo l'immagine sempre che io non stia guardando la macchina da presa vedo l'immagine decida ok devo accorciare accorcio l'accorcio arriva la macchina comunque si si sono millesimi di secondo però comunque su una scena movimentata un millesimo qui un millesimo là e comunque poi insomma il fuoco è anche una questione un po' di sentimento cioè è una questione di entrare molto in sintonia con con le ottiche con l'operatore soprattutto è tra l'operatore e il soggetto cioè riuscire a capire come si muoveranno questi due sicuramente all'inizio è un po' complicato perché insomma si è tutti nuovi e non si sa bene come approcciarsi però diciamo che poi è una specie di danza quindi si riesce a capire più o meno riesci a capire che cosa farà prevedere anche l'operatore quindi sai che l'operatore allo stop non starà fermo ma magari farà un piccolo push in quindi sai che magari allo stop prima di stoppare la camera magari lui lo farà questa cosa quindi magari ti frega una, due, tre, quattro alla quinta lo sai accorci certo però sono tutte cose che pian piano capisci o magari un attore che magari fa sempre quando parla magari fa sempre un po' così che è una gioia per noi assistenti fanno questa cosa magari ti frega uno, due, tre, quattro poi lo capisci e cominci a giocare anche tu a sincronizzarti con l'attore però diciamo che sono tutte cose che ti vengono naturali perché ovviamente capisci che il tuo modo di fare è sbagliato il tuo modo di fare non è corretto con quello che effettivamente sta succedendo quindi ovvio all'inizio si faranno tanti errori perché come è giusto che sia come tutte le cose certo il problema è che in questo ruolo l'errore non è commesso perché butti via butti via tutto butti via tutto cioè può essere una ripresa magari anche non perfetta magari dove entra una gamba di uno stativo non lo so un baffo di luce un flairino sbagliato magari un po' mossa un po' shakerate magari la riesci a correggere in post ma la sfocatura non la serve assolutamente il fuoco è l'unica cosa che che lo fai live o niente quello è il bello e il brutto di questo lavoro nel senso il bello è che comunque hai sempre un po' non dico questa tensione però hai comunque un po' l'adrenalina nel non poter sbagliare o comunque sbagliare il meno possibile perché se un elettricista punta una luce male al secondo take lo rifai però se la scena era particolarmente complicata il casino oppure ripeto se qualcosa è sbagliato se una roba lo scenografo si dimentica di spossare una roba appena buttano l'occhio su un monitor lo vedo anche non avendo girato ok quella penna lì è sbagliata era girata dall'altra parte prima lo correggi il fuoco una volta che l'ha girato è sbagliato certo cosa ne pensi di questa della tecnologia dell'autofocus e sull'utilizzo ormai praticamente ovunque specialmente magari a livelli più bassi ovviamente poi non parliamo di cinema però il fatto del miglioramento tecnico dell'autofocus e dell'utilizzo quasi totale ormai sì scusami su certe cose assolutamente ho visto fare delle robe con un autofocus che io non sarei stato minimamente in grado di fare assolutamente minimamente in grado ma delle robe da sottomacchina delle robe del genere che fisicamente fai molta fatica ma non sono contro secondo me diciamo che non può essere usato per tutto l'autofocus essendo una cosa meccanica non può sapere che cosa vuoi tu regista tu DOP tu operatore se siamo in due se c'è una persona qua dietro e siamo in due questa persona mi parla dietro le spalle l'autofocus rimarrà sui miei occhi quasi sicuramente difficilmente se questa persona parla il fuoco passa la persona dietro quindi dipende tanto da che cosa devi fare chiaro se stai facendo un'intervista e hai una camera pseudo fissa e una persona ti sta parlando in camera e venga chiaro toglie lavoro al nostro lavoro però ci sono sicuramente dei lavori dove anche il ruolo dell'assistente non è contemplato quindi dei lavori più piccoli magari dei cortometraggi un po' più piccoli dove la truppa è molto risicata ci sta che non ci sia l'assistente e dipende tutto da quello che vuoi fare quello che molto spesso se ne scopre la necessità alla prima volta che non si ha un assistente quindi diciamo che se non si conosce questo ruolo diciamo che te ne accorgi della necessità la seconda volta in più insomma certo perché ovviamente molto la parte di macchina da presa la messa a fuoco molti mi dicono ah ma verrete sostituita dall'intelligenza artificiale non ne sono così sicuro nel senso non ma che poi anche la mia compagna fa anche lei lo stesso lavoro quindi ah ok lei dice sempre tutto in famiglia si quindi puoi capire che delirio sia vedersi però è bello perché il fuoco di una persona è anche una cosa organica per cui è bello anche che non sia sempre perfettamente chiaro che se sto facendo la pubblicità dei diamanti non puoi sbagliarci ma se sto facendo un un primo piano e questa persona si muove è bello anche che il fuoco segua l'occhio della persona è anche bello è anche armonico ed è bella organica come un'inquadratura è anche secondo me più bella cioè sembrerebbe veramente una cosa molto 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 macchinosa poi ripeto ci sono persone che non ti fanno sgarrare niente per cui se l'occhio non brilla sempre comunque è un errore ci sta anche quello sono scelte registiche estetiche stilistiche assolutamente assolutamente ok ultime due domande ah vuole finire scusa no 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 faccio le ultime due domande la camera preferita con cui preferisci lavorare come ti trovi meglio cioè dal lato di vista di assistente qual è la camera con cui ti trovi più a tuo agio lavorare risposta molto facile è armi senza ormai è un must perché ma diciamo che sì l'ecosistema armi è è un ecosistema che è imbattibile tutto funziona ho portato delle macchine da preso in delle condizioni che mi viene fin da piangere per e non hanno battuto ciglio non hanno battuto ciglio anche se sony venison che si sta si sta assolutamente prendendo una bella fette del mercato diciamo che per ecosistema ti dico armi perché ci sono gli i5 perché dagli i5 posso comandare tutta la macchina vcu i5 che siano perché ci sono i focus bug o cnrt o quello che sia che danno una mano comunque non da poco se li sai settare bene perché le cose funzionano e sono nel posto in cui pensi che siano cioè se tu ma dove potrebbe essere questa cosa lì ed effettivamente qui cioè non devi impazzire come un menù di una di una sony fx no esatto sempre ritorniamo purtroppo purtroppo le sony hanno un problema con i di una red vecchia di una di smc2 tolta la la raptor una monstro una ilium o quello che è porco giuda era una un massacro ah scusami mi abbassi le frame guide di dove era dentro il menù che sei lì che tocchi massacro overlays roba cose poi ci arrivi e per carità però è massacro Harry due tasti è risolto io sono assolutamente un fanboy Harry senza ombra di dubbi ok beh c'è un motivo se è la camera più scelta nel mondo del cinema comunque ad alti livelli se uno deve scegliere comunque guarda anche quello cioè la resistenza la semplicità di utilizzo la assolutamente sì la 35 è una bellissima io continuo forse a preferire l'LF contro il mio lavoro perché ovviamente è ancora un po' più complicata da mettere a fuoco però però mi piace diciamo che sinceramente non ho lavorato ancora tantissimo con la 35 ho fatto poca roba e purtroppo non ho potuto mettere mano ai file giusto così appunto per dargli un occhio e una valutazione però anche la 35 è una bomba cioè è praticamente impossibile bruciare a meno che non è una roba che recupera cioè non dico che sia oramai inutile esporre ma in pratica porca vacca beh 7 stop di highlight che si possono recuperare è follia veramente cioè se non bruci niente cioè 7 stop di gamma dinamica era 10 anni fa 15 anni fa l'esposizione cioè la gamma dinamica totale di una camera quindi no di tutto no fai 7 sopra 7 sotto e non è che vuoi di più cioè sicuramente è anche un altro mondo per il direttore della fotografia tolto tolto che ovviamente le luci le metti sempre tolto che comunque le luci e le ombre sono quelle che che poi ti rendono un'immagine figa e poi io sono anche dell'idea che ci sono tantissime pepi tantissime pepi ppponi che la gente si fa e che ci sono delle seghe che io vorrei veramente molte volte girare una roba con un che ne so con una fx30 e un'ottica normale colorata come si deve è un lf con le signature tre quarti non sanno riconoscere la differenza esatto cioè ah io voglio per forza quelle ottiche per forza quella macchina per l'amor di dio ben venga però oramai secondo me si è arrivati a un livello per cui c'è talmente una quantità di di lenti una quantità di camere una quantità di possibilità di matchare le cose che insomma stiamo raggiungendo veramente dei livelli un po' matti un po' di sì sì incredibili sì no per che età è figo perché dà una possibilità creativa infinita di fare un sacco di robe però non lo so ci sono tanti che secondo me si fanno una quantità di pippe che che non hanno senso e cosa si potrebbe fare secondo te per evitare questa cosa lasciargli farsi se pippe ciao io lo dico lo dico scherzando ma alla fine non è un mio probabilmente non sono neanche così cioè non sono neanche tanto così schillato in color da poter effettivamente capire le differenze le sfumature che è una cosa ti può dare rispetto a un'altra però come si dice vabbè ma puoi usare i nucleus girano sempre fa sempre girare la rotella sì per carità certo però si fanno anche i nucleus meno male che ci sono i nucleus che molto spesso sono le vogliono culo su produzioni che non si possono permettere magari cose un po' più grandi però chiaro che fare i fuochi con un nucleus o fare i fuochi con un high five è effettivamente un altro mondo certo ok ultima domanda che in parte già risposto prima però cerchiamo magari di approfondire un attimo cosa porti sempre con te sul set hai già risposto alla tua bag cos'è però se devi trovare uno o due cose che sicuramente ti tornano sempre utili sicuramente il mio monitor ok sono come ho già detto abbastanza schiavo del mio monitor che è una cosa sbagliata perché è una cosa sbagliata perché la volta che il mio monitor cade si spacca e mi danno un atomos io vado in pappa ripeto poi per carità ci si abitua e ci si mette sicuramente al pari con quello che succede altre cose che uso spesso che ne so una lederman che per dire una cosa stupida e basilare che insomma un borsello con un po' di attrezzi che possono servire sempre un multitool qualcosa per pulire le lenti una piccola paucina con un liquidino un pennello non so che altre cose ma poi sistematicamente ti serve sempre quello che non hai quello è classico però monitor diresti monitor se dovessi rispondere se proprio mi dicono puoi portare solo una cosa e tutto il resto gli diamo fuoco sì dico il mio monitor il mio monitor è il mio paraluce in verità sono anche abbastanza schiavo di un tavolino che metto al mio stativo una specie di in cui butto che può essere il disto può essere un po' di robe un po' di cose che possono servire così da prendere e da subito prendere al volo al volo sì beh basta dai comunque a parte la tua borsa che pesa 50 kg direi anche basta che è abbastanza sono tentati di prenderne un altro di prenderne due più piccole per riuscire a a dividere un po' così puoi portarlo con tutte e due le mani e faticare su due spalle invece che con una dico ho un carrellino per portare il mio bag che non faccio ridere faccio veramente ridere infatti i miei colleghi mi continuano a prendere per il culo perché è una roba imbarazzante il mio bag è una roba gigante cioè gigante mi sembra che se no 68 litri una roba del genere enorme 68 litri e pieni e pieni sì sì a tappo che faccio che dica chiuderla ma se io avessi 90 sì sì metterei roba per comunque certo certo un pazzo e vabbè fa parte anche del ruolo un po' secondo me devi esserlo dai mettiamola così sì alla fine tutte le volte che mi serviva qualcosa l'ho fatto l'ho comprato l'ho costruito l'ho buttato dentro magari poi mi servirà certo poi magari il 90% effettivamente trovi perché ce l'hai lì altre 10 capita che non ce l'hai diventa un po' così bene un po' un accumulatore bene Davide grazie mille per questo per il tuo contributo e averci raccontato un po' il tuo ruolo e la tua storia grazie a te e grazie a voi se avete seguito fino a questo punto questa puntata di Backlight e ci vediamo alla prossima puntata ciao hai ascoltato Backlight il podcast che fa luce sulla cinematografia i nuovi episodi escono martedì e venerdì le interviste sono divise in tre episodi brevi più l'episodio completo che puoi anche seguire in versione video su YouTube ci vediamo al prossimo episodio